Che bella la cultura, che belli i libri, che belli anche i concerti, i film, che belle le conferenze. Ma non è soltanto una bellezza estetica, non è soltanto un cibo per la mente e per le emozioni, è anche un modo per capire come relazionarsi nel modo migliore con l'ambiente circostante. Per questo di solito chi più ha letto e chi più si è cibato di cultura è capace di stare più attento al tema della sostenibilità ambientale. È proprio un capire fino in fondo quanto siamo interdipendenti, noi e l'ambiente.